Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, primo video della season numero 10! Io non so neanche da dove cominciare perché non sto qua a farvi vedere le nuove skin, i piccoli, i nuovi delta poli, queste cose qua le vedete! Ragazzi ho delle notizie veramente... Ecco avete capito come sono le notizie! Prima però ragazzi di passare alle news volevo ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice CREATOR XIODERONE! Quando scioppazzano di prepotenza nello shop! Grazie a tutti ragazzi per utilizzarlo e mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto... attivate la campanella per non perdere nessuna notizia sui miei video e sulle mie live! Il video di oggi ragazzi parlerà della nuova Pinnacoli a tema Far West! È una cosa... vi faccio vedere delle immagini che sono veramente incredibili! Parliamo di pezzi di immagine addirittura della season 4! Ho delle teorie ma non ho tempo di dilungarmi! Non adesso! La Renegade Raider ragazzi ragazzi! Qua bisogna stare calmi! Non saltate dalla sedia perché... Vi faccio vedere una cosa che sembrerebbe dare la possibilità alla Renegade Raider di tornare molto molto presto in questa season! E ovviamente una sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite! Ma prima ragazzi ve la devo fare! Non è che passare le season non ve la faccio! La domandina! Mi avete commentato un miliardo! Ieri nel video proprio qua sotto domanda di oggi! Le tue prime impressioni sulla season 10! Non potevo che iniziare questa nuova stagione con questa domanda! Ragazzi mi piace! Mi piace! Lo dico, lo continuo a dire, sono tornate le fabbriche, hanno rimesso delle skin vecchie un pochettino con un outfit diverso, mi piace l'idea dei viaggi del tempo, questa season mi sta piacendo molto più bello il mio impatto rispetto alla precedente season e anche a due season fa dai la 8! Era un po' più bella per i pirati però la 9, la 10 tanta tanta roba! Ma quindi! C'è le bande! E bando alle ciance! Andiamo subito subito a parlare di Ninja ragazzi! Ninja non ha più l'account Twitch! Non sto scherzando! Non si sa bene quale sia stata l'offerta che gli si è fatta! Ma ragazzi da adesso Ninja streamerà solo su Mixer che deve essere la piattaforma di streaming di Microsoft! Infatti se andiamo direttamente nel suo profilo Twitch vedete che non ha più il verificato e molto probabilmente già dalle ultime ore di ieri non sarà più possibile vederlo su quella piattaforma! Tanti auguri al ninja per essersi portato a casa un sacco di milioncini e ancora lascia un account da 15 milioni di iscritti! E proseguiamo ragazzi finalmente con questa immagine incredibile! Signori questa è un'immagine presente nei file di gioco e che mostra una pinnacoli tutta nuova! Di primo acchito potrebbe sembrare pinnacoli pendenti quella che conosciamo tutti è la classica! Ovviamente si capisce che non è neo inclinata perché non ha niente a che vedere ragazzi questa è una pinnacoli a tema far west! Voglio farvi vedere cosa c'è dentro i file di gioco! Queste sono tantissime location tantissimi prefabbricati che andranno a formare la nuova pinnacoli e come vedete si capisce benissimo che tutte le case tra l'altro anche i nomi in alto vengono chiamati con il nome west Sarà appunto una nuova porzione di mappa che verrà ovviamente proiettata nel passato perché io dico che è incredibile questa cosa perché alcune di queste immagini ragazzi io ve le avevo già liccate nella season 3 Il che vuol dire se non era la 3 era la 4 esattamente quando apparve per la prima volta il rift davanti alla porta della baita di rifugio ritirato me lo ricordo benissimo Da lì si cominciò a parlare di far west dopodiché cadde l'argomento perché epic games non portò più avanti ma io credo che già nella season 4 o 3 avevano in mente i viaggi nel tempo sono stati talmente geniali da riuscire a portare la storyline avanti per sette stagioni senza ovviamente perdere un millimetro Sono veramente dei geni la cosa più incredibile però che voglio farvi vedere è proprio questa perché c'è un'immagine dentro una sfera Ed è un mistero ragazzi che è veramente sulla bocca di tutti in queste ultime ore come arriverà la possibilità di Arrivare nel far west di vedere una pinnacoli che si chiamerà Tilted town si chiamerà minze che memoria ragazzi ho anche dei file audio non chiedetevi perché ci sono ma ci sono anche dei file audio ve li faccio sentire guardate sentite file audio del far west dedicati alla nuova Tilted town appena saprò qualcosa di più lo saprete anche voi anche se già le notizie sono veramente incredibili Ma andiamo avanti ragazzi con un'altra notizia quella che volete tutti e che voglio anche io parliamo di lei Quindi la renegade raider una delle skin più bramate dai collezionisti dai giocatori insieme a lei abbiamo anche l'area l'assolt insieme a lei abbiamo l'elfo abbiamo tante skin della season 1 della season 2 c'è una stringa di codice che è appena stata inserita ragazzi e che lascia veramente a presumere che possa tornare la renegade e non solo ragazzi la riga è questa Select and vote the item you want to have a chance to bring back to the item shop Vi spiego secondo me stiamo già parlando ed è pazzesco di un evento della season 10 che non necessariamente potrebbe essere l'evento principale come quello che è stato nella season 9 o nella season 8 Potrebbe essere un side event ed è molto simile al revolt event della season 7 dove abbiamo riportato la tommigan in game qua invece ragazzi verrà data la possibilità ai giocatori di scegliere un oggetto da riportare nello shop E per oggetto si intende picconi deltaplani balli ma anche skin e io voglio vedere chi non vota per riavere la renegade raider sicuramente ci saranno gente che dice io non la voglio io ce l'ho mi sta sulle palle questa cosa io se dovessi scegliere sceglierei l'aerial assault a me piace tantissimo veramente figo ma ragazzi secondo me Predict the lock shooter torna la renegade raider perché noi player sceglieremo la renegade raider insomma ragazzi io dico che questa season ha veramente delle grandissime potenzialità L'unica cosa che non mi convince è proprio questo signore qua ragazzi il robot mi sembra veramente esagerato esagerato oramai ho già beccato gente che ha imparato a maneggiare il robot E ti demoliscono cioè ieri abbiamo giocato con e festone demoliti appena gli entrava uno con robot quindi spero che epic games valuterà un nerf a questo nuovo veicolo che è veramente fighissimo come come concept ma è un po' da livellare perché è veramente troppo esagerato Io vi ringrazio tantissimo ragazzi per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live Ciao 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 Ciao